Siamo nel pieno della creatività, eh! Si resta degli ati laser e le piastrine sono stampate in 3D, praticamente questo taglio permette di incastrare dei pezzetti di carta per lasciare un messaggio a una persona, come in questo caso, quindi uno può scrivere un messaggio e intrecciarlo qua, quindi uno può consegnare il messaggio, una volta che uno toglie il messaggio può inserire la piastrina. Cioè io lo vorrei comandare di fidanzamento! Infatti il decoravottone in realtà è pensato per noi, l'anello per lei, il decoravottone per noi, quindi andate abbinati. Ogni forma ha la propria personalità, quindi racconta un pochi, lo indossa! Non devo chiedere che cos'è la creatività secondo te, perché ha risposto spiegandomi la sua creazione praticamente, giusto? Una, lo devi provare! Ho le dita un po' grandi però! Eh anch'io, l'ho pensato per tutti! Oddio che lo voglio! È bellissimo! Ciao! 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 Grazie a tutti.